Un saluto e ben ritrovati dalla redazione del Tg della Mobilità. Trasporto pubblico confermati, gli scioperi di 24 ore indetti per venerdì dai sindacati CGL, CISL, Will, UGL, Faisa, CISL, CUB Trasporti e Cobas. Nella capitale l'agitazione interesserà sia i dipendenti di Atac sia quelli di Roma TPL, per cui dalle 8.30 alle 17 e poi ancora dalle 20 a fine servizio saranno possibili stop sulle corse di bus tram metropolitane e ferrovie urbane Romalido, termini Cento Celle e Roma Civita Castellana Viterbo. A livello regionale la protesta interesserà i lavoratori della società Cotral, per cui i disagi saranno possibili anche sulle corse dei bus extraurbani.